Un sondaggio condotto in Cisgiordania e a Gaza alla fine di novembre indica che dopo il 7 ottobre nei territori il sostegno generale ad Hamas è cresciuto anche in maniera sensibile, mentre la popolarità del presidente palestinese Abu Mazen tocca i minimi storici. Israele, secondo 7 palestinesi su 10, non riuscirà a raggiungere gli obiettivi della guerra, fra cui la distruzione delle capacità militari e di governo di Hamas, ed una forte opposizione viene espressa riguardo ad un futuro di spiegamento nella striscia di una forza di sicurezza araba, anche se fosse schierata in sostegno all'ANP. Il sondaggio è stato condotto durante la tregua dal Palestinian Center for Policy and Survey Research su un campione di 1.231 adulti. Da esso è risultato che il 72% trova corretta la decisione di Hamas di lanciare l'attacco del 7 ottobre. Tuttavia, nota al centro, la stragrande maggioranza degli intervistati ha detto di non aver visto i video che mostravano le atrocità dei miliziani. Solo il 10% si è detto persuaso che Hamas si sia davvero macchiato di crimini, mentre il 95% non ha dubbi sul fatto che Israele abbia commesso crimini di guerra a Gaza. Sul futuro assetto di Gaza, il 64% pensa infine che Hamas avrà ancora un ruolo di primo piano.